Mentre il Consiglio Europeo dà il via libera alla nuova direttiva sulla qualità dell'area che mette regole molto più stringenti e permette anche ai cittadini di chiedere risarcimenti se si ammalano a causa dell'inquinamento, i negoziatori che stanno svolgendo il lavoro preliminare per COP29, la conferenza sul clima che sterrà a Baku fra poche settimane, hanno raggiunto un importante accordo sui cosiddetti mercati volontari del carbonio. Parliamo anche del ritorno delle tigri in Kazakistan e di una strage cihadista in Burkina Faso e di come viene raccontata. Io sono Andrea degli Innocenti, oggi è il 15 ottobre 2024 e questa io non mi rassegno, la segna stampa commentata di tale che cambia. Sigla! Ci sono due notizie importanti nell'ambito della legislazione diciamo ambientale e climatica. La prima arriva dall'Unione Europea e la prendo da Grimmie ed è che il Consiglio Europeo ha adottato formalmente la cosiddetta direttiva sulla qualità dell'aria che stabilisce nuove regole su appunto la qualità dell'aria in tutta l'Unione Europea. Vediamo meglio che cosa prevede perché ci sono diverse novità importanti, le principali direi che sono tre. Innanzitutto si chiede agli stati di monitorare in maniera più puntuale, più efficace proprio la qualità dell'aria seguendo una modellazione più recente e completa rispetto a quella attualmente in vigore. Poi si stabiliscono nuovi standard per quanto riguarda la presenza di inquinanti nell'aria, standard obiettivi insomma che vanno raggiunti entro il 2030 e che sono più in linea con quello che prevedono le linee guida più recenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Standard che sono appunto più stringenti e riguardano in particolare il particolato PM10 e PM2.5, il biossido di azoto e il biossido di zolfo che sono diciamo le sostanze dannose e inquinanti che fanno male sia agli ecosistemi sia alla nostra salute più presenti soprattutto nelle aree delle nostre città. Tra l'altro questa direttiva si inserisce nel piano europeo inquinamento zero entro il 2050, un piano molto ambizioso che punta esattamente a arrivare a quello che promette nel suo nome quindi ad abbattere completamente l'inquinamento di sostanze nocive nell'area dei paesi di tutta Europa, tutta l'Unione Europea perlomeno. Ora facciamo una piccola digressione ma per capire di cosa stiamo parlando perché dire che dobbiamo ridurre drasticamente fino ad azzerare questi inquinanti nell'area significa che dobbiamo ridurre drasticamente fino ad azzerare le loro fonti, cioè i motivi per cui questi inquinanti sono nella nostra aria. E sapete quali sono le fonti principali di questi tipi di inquinamento? Ve le elenco, scusate la digressione è un po' lunga però secondo me è interessante capire da dove arrivano queste sostanze perché vorrà dire anche che dovremo agire su queste cause qua. Per il particolato sia PM10 che PM2.5 il particolato sono queste piccolissime particelle di pulviscolo nell'area che fanno, insomma, danno un sacco di problemi al sistema respiratorio e cardiovascolare. Le fonti sono soprattutto automobili a combustione, in particolare i motori diesel, riscaldamento domestico, quindi stufi a legna, stufi a pellet e così via, e industrie pesanti e centrali elettriche principalmente a carbone ma in generale che bruciano combustibili fossili, quindi anche petrolio e gas. Per il biossido di azoto sempre automobili e in più processi industriali e sempre centrali elettriche a carbone, petrolio e gas naturale. Per il biossido di risolfo sempre combustione di combustibili fossili e raffinazione del petrolio. Quindi ecco capite che per eliminare l'inquinamento dall'aria delle nostre città dobbiamo eliminare tutta questa roba qua, che è una roba grossa, una roba impegnativa, ambiziosa, ma anche molto molto importante. Inoltre, in base a questa direttiva, come vi anticipavo e come spiega l'articolo, no forse non vi anticipavo, ve lo dico adesso, i cittadini potranno chiedere un risarcimento per danni alla salute nei casi in cui le norme europee sulla qualità dell'aria non vengano rispettate. Cioè se il mio paese non rispetta gli standard previsti dall'Unione Europea e io mi ammalo di una malattia compatibile con quel tipo di inquinamento, posso fare causa, non so ancora esattamente, dipenderà dal ricevimento, se allo Stato, al Comune, alla Regione, non lo so, e comunque posso fare causa e ricevere un risarcimento che non mi restituirà la salute, ma comunque è un forte deterrente per gli Stati a non rispettare quelle leggi e quelle normative. Insomma è soprattutto una stimola, una leva per gli Stati a essere in regola, perché pensate quanti soldi dovrebbero pagare gli Stati per risarcire ogni singola persona che gli fa causa per malattie compatibili con l'inquinamento, anche perché sono numeri, ora fra poco ve li do, abbastanza impressionanti quelli delle persone che muoiono e insomma ancora di più si ammalano a causa dell'inquinamento. La nuova norma infatti garantisce un accesso giusto ed equo alla giustizia per coloro che sono o possono essere colpiti dalla mancata attuazione della direttiva, così leggo sull'articolo. Articolo che poi cita anche i rischi dell'inquinamento atmosferico che è attualmente, pensate, il più grande rischio ambientale per la salute in Europa dal momento che gli inquinanti sono estremamente dannosi sia per gli esseri umani che per l'ambiente e secondo le stime, e qui veniamo appunto ai numeri che vi dicevo, sono circa 300.000 i decessi prematuri in Europa che ogni anno sono dovuti all'inquinamento atmosferico, una cifra davvero impressionante. Tuttavia, questa è una mia piccola digressione e parentesi, l'articolo non cita, ma sarebbe molto importante farlo in queste situazioni, anche il fatto che l'inquinamento ambientale è in calo costante da anni in tutta Europa e anche in Italia, nel nostro paese. Cioè non toglie che la strada sia ancora lunga, che i morti siano ancora tantissimi, troppi, però siamo su un cammino importante, interessante, non scontato, non so quanti di noi sanno questo dato, però ecco è importante ribadirlo ogni volta che c'è l'occasione. Cosa succede adesso? Succede che gli stati membri hanno come al solito due anni per recepire la normativa con delle leggi nazionali, anche qui dobbiamo monitorare, stare attenti a come verrà recepita in Italia questa legge, e poi entro il 2030 la Commissione Europea riesaminerà gli standard di qualità dell'area dei vari paesi membri e poi successivamente ogni cinque anni lo farà, insomma ciclicamente, per valutarne i miglioramenti e eventualmente applicare dei corrottivi. Quindi direi molto bene. Un altro passo in avanti importante arriva invece dai negoziati tecnici che si stanno svolgendo sempre a Baku, in Azerbaijan, in vista, semplice, a Baku, in Azerbaijan, in vista di COP29, ovvero la conferenza delle parti sul clima delle Nazioni Unite, che si darà quest'anno, fra poche settimane, per l'appunto a Baku, in Azerbaijan. E sembra essere stato raggiunto un accordo sui mercati volontari del carbonio, che sono questi mercati volontari del carbonio, sono dei meccanismi previsti dall'Accordo di Parigi, dall'articolo 6 dell'Accordo di Parigi, per uno dei tanti meccanismi che servirebbero ad uscire dal carbonio, quindi a smettere di gettare anidride carbonica e altri gas clima alteranti in atmosfera, e consistono in delle piattaforme in cui individui, aziende o organizzazioni possono acquistare o vendere crediti di carbonio per compensare le proprie emissioni di gas serra o promuovere iniziative di sostenibilità ambientale. In pratica ci sono da un lato le aziende che inquinano, che possono comprare questi crediti, ovvero una sorta di licenza di inquinare, finanziando con i soldi invece chi questi crediti li mette in vendita, che sono invece in genere associazioni e organizzazioni che fanno azioni per catturare CO2 dall'atmosfera, quindi piantano alberi, riforestano, proteggono le foreste, la deforestazione, cose di questo genere. È un sistema che, l'abbiamo già visto, qui sono in mera, segno in passato, ha mostrato un sacco di limiti con i crediti che venivano conteggiati più volte e con una percentuale risibile di progetti realmente significativi che venivano finanziati attraverso questa piattaforma. Pensate che un'indagine, un'inchiesta del Guardian, aveva mostrato che una percentuale vicina al 97% dei progetti che davano crediti di carbonio erano praticamente fuffa o comunque non avevano alcun beneficio o scarsissimi benefici a livello ambientale. Quali sono quindi le novità che si vorrebbero introdurre in questo sistema? Sostanzialmente sono due, una valutazione del rischio condotta da esperti indipendenti e metodologie di calcolo più credibili. Vediamo meglio però in cosa consiste il tutto. Come spiega un articolo su rinnovabili.it, l'intero articolo 6 dell'Accordo di Parigi è dedicato a meccanismi per la cooperazione fra Stati e altri enti verso l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra e riguarda principalmente appunto i mercati del carbonio. L'articolo istituisce un ambito di cooperazione volontaria e definisce due tipi di mercati del carbonio, quelli con scambi bilaterali, articolo 6.2, e poi il mercato globale del carbonio con scambi multilaterali, articolo 6.4. E si tratta di uno degli articoli più discussi perché nel 2015 il testo del Price Agreement lasciava da definire moltissimi particolari che però erano indispensabili per far funzionare davvero questi meccanismi e poi questi particolari di fatto non sono mai stati definiti per via di difficoltà tecniche, interessi politici e tutta una serie di fattori che hanno rallentato il processo. Ancora l'anno scorso, durante l'ultima conferenza delle parti, le parti sembravano molto distanti, in particolare le posizioni degli Stati Uniti da una parte ed Europa dall'altra erano su sponde opposte con Washington che premeva per un articolo 6.4 con poche regole e Bruxelles che invece voleva un quadro più sicuro a costo di aumentare la complessità del sistema di scambio dei crediti. La scorsa settimana è arrivata una svolta che sembrerebbe superare queste divergenze politiche e a Baku, in quest'ultima riunione tecnica fra le parti, c'è stata la cosiddetta fumata bianca, si è trovato l'accordo ed è stato approvato il framework per il funzionamento dei mercati volontari del carbonio. Cosa prevede questo framework? Prevede un meccanismo che assicuri maggior tutela dei diritti umani e dell'ambiente. In pratica ogni nuovo progetto che vuole poter generare crediti da scambiare sul mercato volontario del carbonio deve presentare una valutazione del rischio indipendente che valuti 11 ambiti diversi che vanno dall'acqua alle popolazioni indigene. Questo per quanto riguarda le organizzazioni che vogliono immettere nuovi crediti sulle piattaforme e poi anche un meccanismo che assicuri più coerenza con gli obiettivi internazionali di sviluppo, vuol dire che sempre questi nuovi progetti che vengono immessi su queste piattaforme devono chiarire non solo come contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo primario di ridurre le emissioni di gas serra ma anche degli obiettivi secondari quindi non so la lotta alla povertà eccetera e non essere in contrasto con essi. Questi due pilastri formano quello che viene chiamato sustainable development tool che andrebbe a sostituire che è un nuovo framework, un nuovo funzionamento che andrebbe a sostituire quello attualmente in vigore chiamato clean development mechanism molto criticato perché appunto non sempre in grado di assicurare l'effettiva utilità per il clima dei progetti certificati nell'assenza di effetti collaterali di qualsiasi tipo degli stessi progetti. Questo tool è stato approvato la scorsa settimana e si applicherebbe anche ai progetti già esistenti in caso si volessero traghettare i loro crediti verso appunto il nuovo sistema delle Nazioni Unite. Diciamo che tornando alla diatriba fra Stati Uniti e Europa è un approccio più vicino alle volontà degli Stati Uniti però sono presenti alcune clausole e dei meccanismi di revisione del quadro ogni 18 mesi per cui se le cose non andassero in teoria si è in grado di intervenire in maniera abbastanza tempestiva rendendo questi meccanismi più complessi ma anche magari più stringenti. Intanto comunque devo dire interessante che comunque ancora diverse settimane prima della Copp di Baku si sia già arrivati a un accordo su questo punto centrale. Il Times of Central Asia racconta una bella storia di reintroduzione di un grande carnivoro in Kazakistan due settimane fa due tigri dell'Amur, dette anche tigri siberiane, sono state prelevate da uno zono ai Paesi Bassi e portate nella riserva naturale statale il Balkash che sta nel sud del Kazakistan. Ovviamente non sono quelle tigri destinate a ripopolare il territorio ma si spera la loro prole perché questi due tigri che sono maschio e una femmina vivranno in un recinto creato appositamente all'interno della riserva perché avendo vissuto tutta la loro vita in cattività non sono in grado di vivere in un ambiente naturale però appunto si spera che abbiano dei cuccioli che possano essere invece reintrodotti in natura e fra l'altro si prevede anche che invece nel 2025 altre due o tre tigri arrivino dalla Russia in Kazakistan e saranno, se il piano andrà come si spera, le prime tigri a essere reintrodotti in natura in territorio kazako dopo più di 70 anni. Ed è il coronamento di un piano annunciato nel 2010 dal governo kazako, sette anni dopo è stato creato, sviluppato il programma vero e proprio attuato dal ministero dell'ecologia e delle riserve naturali del Kazakistan, fra parentesi interessante anche che esista questo ministero con il supporto del WWF e del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo e poi è stata individuata l'area, il luogo adatto per fare questa reintroduzione ovvero appunto l'îl Balkash, un'area naturale molto importante del delta del fiume Hill che è l'unico delta fluviale di tutta l'area l'Asia centrale preservato, gli altri sono andati incontro a desertificazione e che ospiterà si prevede fino a 100 tigri secondo quanto sostenuto dal ministro. Pensate che le tigri un tempo erano molto molto numerose e autocrine in Kazakistan e poi alla fine dell'Ottocento è iniziato il declino della popolazione, declino dovuto in parte a delle azioni mirate volute persino con l'intervento dell'esercito per ridurre il numero di tigri che davano problemi di convivenza si diceva con gli esseri umani, dall'altra dalla degradazione degli habitat e dalla scomparsa delle loro prede naturali tipo il cervo, le gazzelle, i caprioli, i cinghiali. Il fatto sta che in circa 50 anni si arrivò alla loro completa estinzione nel 1948. Si parla di estinzione perché quella specie di tigre specifica, quel tipo di tigre, le tigri del Turan, quelle che popolavano quella zona, erano presenti più o meno solo in Asia centrale, un po' nel Caucaso, un po' nel nord dell'Iran, ma sono completamente estinte. Però, fatto interessante, i biologi suggeriscono che le tigri del Turan e le tigri dell'Amur, quelle che vengono adesso reintrodotte nella zona, che invece sono native dell'estremo oriente russo, non siano sottospecie distinte, ma appartengano allo stesso gruppo di grandi felini e quindi da qui la scelta di reintrodurre proprio quella sottospecie che è la più simile e forse persino la stessa. Comunque, secondo il piano, è un piano abbastanza elaborato, devo dire, e si prevede che non solo vengano reintrodotte le tigri, ma parallelamente venga migliorato l'habitat naturale in cui vengono reintrodotte, reintroducendo un po' tutta la catena alimentare per fare in modo che, leggo, ci sia un approvvigionamento alimentare naturale delle tigri presenti nella riserva e questa cosa, unita al fatto che la riserva è molto isolata, non dovrebbe creare conflitti, dovrebbe anzi evitare che si creino conflitti fra tigri ed esseri umani nella zona. Tra l'altro questo non è neanche il primo progetto di reintroduzione di specie in via di estinzione in Kazakistan perché nel giugno di quest'anno 8 cavalli di Prevalski sono stati reintrodotti nella riserva naturale di Altindala, un'altra riserva naturale, a dimostrazione che il governo kazako si sta muovendo in maniera molto interessante per quanto riguarda il ripristino della biodiversità. Quindi ecco, ho trovato questa notizia davvero interessante. Vi dico anche che, vabbè, sapete che forse quello della reintroduzione di grandi mammiferi in abitato naturale è un tema molto discusso anche da noi, dagli orsi ai lupi, ai cervi, ai cinghiali e vi segnalo, forse lo saprete già, che comunque se l'argomento vi interessa ne parla anche il nostro direttore Daniel Tarozzi nella prima puntata del nostro nuovo podcast per abbonati e abbonate Solutions, di cui trovate il link sotto fonti e articoli sulla pagina rassinastampe.org. Infine, a proposito di legami con la natura, vi segnalo anche un bell'articolo dell'etologa e fondatrice di eticoscienza Chiara Grasso, che da qualche mese collabora con noi, sui benefici dell'outdoor education dati alla mano anche nello sviluppare un legame profondo e un'interconnessione profonda con gli ecosistemi naturali, che da vedere sono risultati davvero strabilianti. Ieri su domani, scusate il caos temporale ma domani è il nome del giornale in questione, è uscito un articolo del politologo Mario Giro dal titolo Un altro massacro nel Burkina Faso che nazionalizza le miniere. Ve ne parlo per due motivi. Il primo è che la notizia, anche se in realtà è un po' vecchia, è importante, è drammatica, ma ha insomma un sacco di risvolti e di elementi interessanti da conoscere. Il secondo è che il titolo è piuttosto equivoco, però su questo ci torniamo verso la fine. Iniziamo con i fatti. I fatti in questione non sono in realtà appunto recenti, come vi dicevo, si riferiscono alla fine di agosto quando c'è stato un terribile massacro di civili in una zona rurale del paese ad opera di un gruppo jihadista. In pratica a Bersalogo, a 140 km a nord della capitale Ogandogu, sono stati uccisi circa 600 abitanti e contadini della zona ad opera dello JNIM, un acronimo, una sigla, che identifica un gruppo armato jihadista affiliato da Al-Qaeda che da tempo organizza scorribande e in pratica ha preso il controllo parziale del nord del paese e non solo del Burkina Faso ma di diversi altri paesi del Sahel. Secondo l'esperto in questione, i jihadisti approfittano della debolezza degli stati saheliani, come anche in Mali e in Niger, per attaccarli e seminare il terrore nella popolazione, provocando importanti movimenti disfollati. Comunque la strage del gruppo terroristico è stata a sua volta una reazione alla costruzione voluta dal governo di Ibrahim Traoré, leader golpista, leader dell'esercito, che attualmente governa questo governo di transizione, che insomma, con un sacco di comunque idee e iniziative interessanti, l'abbiamo detto la volta scorsa quando abbiamo raccontato la storia appunto delle nazionalizzazioni delle miniere e appunto Traoré e l'esercito hanno voluto costruire una trincea in funzione difensiva contro gli stessi jihadisti. Trincea che però è diventata un po' una sorta di tomba dei locali perché sono state diffuse dai jihadisti queste foto con i cadaveri che riempiono questa trincea, diffuse sui social come monito contro prossime imprese simili del tipo non provate a fermarci, non provate a costruire barriere contro di noi. E in questo modo l'organizzazione dimostra di controllare il territorio e aver preso praticamente in ostaggio la popolazione che ormai sembra stretta in una sorta di morsa fra i jihadisti da un lato e l'esercito dall'altro. Anche i mercenari russi, immagino il gruppo Wagner, sono sotto in difficoltà, sono sulla difensiva dopo i colpi ricevuti negli altri paesi confinanti e anche per via della rarefazione degli approvvigionamenti logistici e degli armamenti che arrivano dalla Russia, che è più occupata a pensare alla guerra in Ucraina che a rifornire appunto le truppe in Russia. Insomma la situazione dei civili nelle aree del nord del paese è davvero davvero complicata e l'esercito del Burkina Faso è praticamente da solo a provare a arginare l'avanzata jihadista perché da un lato i tanti promessi aiuti europei e americani, questo lo aggiungo io, non sono mai pervenuti da un certo punto il Burkina Faso come altri paesi hanno espulso le truppe occidentali e quelli russi iniziano a vacillare. Qui poi l'articolo però fa un passaggio un po' vacillante anch'esso e passa a parlare della nazionalizzazione delle miniere di cui abbiamo parlato giorni fa che però non mi sembra, non lo so, vi leggo il passaggio. Nelle stesse ore in cui il massacro diventava pubblico la giunta al potere ha annunciato di aver nazionalizzato tutte le miniere d'oro del paese, quinto produttore africano. Attualmente la situazione della produzione d'oro e di altri minerali preziosi è la seguente, 9 miniere gestite dai canadesi, 4 dai russi e 4 dai turchi, 2 da società indiane e 2 australiane, una sola miniera è in mani Burkina B. E più avanti si dice attorno allo sfruttamento dell'oro vi sono molti interessi anche se il Burkina non ha né le competenze né l'esperienza per gestire le miniere in proprio, tenendo conto che si tratta di investimenti e produzioni abbastanza recenti. Tra l'altro il settore dell'estrazione non è del tutto sotto controllo, attualmente si contano nel paese più di 600 siti di estrazione artigianale con circa un milione di persone che vivono direttamente in tale attività. L'estrazione artigianale dell'oro, detta anche Orpayage, si è sviluppata negli ultimi due decenni, il governo dovrà ora affidarsi a tecnici stranieri, saranno ancora una volta i russi come è avvenuto in altri stati confinanti oppure saranno scelti altri in nome di maggior autonomia. L'idea che circola oggi fra l'elite e il continente, e qui finisce l'articolo, è che occorra smettere di dipendere da qualcuno, meglio diversificare e avere numerosi partner con i quali negoziare di volta in volta condizioni migliori. L'unica certezza è che la raffinazione dell'oro Burkinabè avverrà negli Emirati come per quello di tutta la regione. È ovvio che occorre anche garantire una maggiore sicurezza che opererà in futuro se i massacri continuano avvicinandosi alle città più grandi, sarà molto complicato per il governo trovare partner affidabili. Ecco, qui finisce l'articolo e come vi dicevo all'inizio ci sono alcune cose un po' strane, sia nel titolo che in alcuni passaggi della notizia. L'articolo in sé è interessante, ma il titolo, che ricordo è un altro massacro nel Burkina Faso che nazionalizza le miniere, lascia intuire che ci sia un legame fra nazionalizzazione delle miniere e strage di civili, cosa che invece non c'è. E poi più volte nel pezzo si allude in maniera un po' velata delle possibili criticità di questa operazione di nazionalizzazione delle miniere, che per carità ci sono davvero, cioè in primis quella delle competenze e tante altre, ma non si fa mai riferimento alla rilevanza storica invece di un paese africano fra i più poveri in assoluto che prende in mano le sue risorse togliendole a Canada, Russia, Turchia, quindi in maniera bipartisan un po' a tutti, senza favorire apparentemente nessuno. Insomma, mi sembra un articolo che non so dire quanto consapevolmente o in buona o cattiva fede, però di fatto getti cattiva luce su un'operazione che senza negare l'electricità resta un fatto invece storico. Fra l'altro, e qui chiudo, ho fatto una rapida ricerca e l'autore dell'articolo, Mario Giro, che domani presenta semplicemente come politologo, è in realtà un politico, oltre che politologo, ex diplomatico, nonché ex viceministro degli affari esteri nei governi Renzi e Gentiloni, quindi insomma è uno che, almeno dal lato politico, ha curato gli affari esteri italiani anche in Africa e che forse ipotizzo può non vederli buon occhio la spinta all'autodeterminazione del paese africano e quindi magari può avere qualche bias cognitivo in più, non lo so. Comunque, fatto sta che mi interessava raccontarvi questa notizia per darvi questa doppia lettura sia su una notizia in sé, sia su come è stata raccontata e come si allude a qualcosa che forse non c'è. Va bene, io direi che noi ci possiamo salutare qui, vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Io non mi rassegno, sempre a partire dalle hot, su canale YouTube, sulle principali fattorie di podcasting, nonché solo page di rassegna stampa, che cambia.org, voi mi raccomando state bene, fate i bravi, le bravi, e ricordatevi che chi si rassegna è perduto.